capito chi è ma non ha piantato gli olivi ha piantato quello o quell'altro perché lì c'è un muro ora vi siete fermati guardando che prendiamo freddo secondo me non è un pochetto come si a confinare un pochetto è un amico del tutto il dà me lo so come va a capire ma ti è un pochetto freddo il forno